Può partire qui il derby tra Siracusa e Catania con il Catania che attacca da destra verso sinistra e dei vostri schermi in completo bianco con i pantaloncini azzurri risponde il Siracusa con una completo con maglietta azzurra e i pantaloncini bianchi qui subito Calapai prova a rifugiarsi da Aya ci riesce Aya prova a caricare il destro rischia qualcosina riconquista il pallone Lele Catania che si invola contresposito ancora Lele Catania vertice alto dell'area di rigore Lele Catania ancora il mancino Siracusa in vantaggio dopo 30 secondi si sblocca subito il derby al De Simone lo segna Lele Catania il gol dell'1 a 0 non esulta sempre per rispetto del suo popolo ma dopo 30 secondi doccia freddissima per il Catania con il Siracusa Grazie a tutti! E il secondo gol di Siracusa lo segna lui con il numero 23 Nicolai! 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 Grazie a tutti.